Siamo al mare Guardiamo avanzio più che mi vuole trovare dico solo a ciò di inviare iscrivervi al mio canale per avere un'altra altrimenti a seguire guarda laggio blu voglio andare però vi vedrete un po' lontano quindi guarda il giorno guarda laggio blu guarda lagge uguale guarda laggio guarda laggio guarda laggio guarda laggio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info